good morning non chiedo direi più buon pomeriggio perché buonasera qui sono le due dieci mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 8 2022 and it's a saturday it enables 50 farinight around 10 celsius and this means that non è quella cioè è quella giornata veramente 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 fredda questi giorni in questo periodo credo che siamo appunto nella media infatti adesso ci sono effettivamente 5 6 gradi in meno ma io come ripeto sempre non sento sto ripetendo questi giorni non sento il freddo più di tanto invito sempre a vedere il mio video sul freddo quello in cui ho spiegato per chi non soffro più di tanto faccio due pratiche ma per noi per diciamo cercare di combatterlo ma appunto niente sempre il video in descrizione non la scremata finale e oggi ho fa freddure ma nulla di grave insomma poi adesso andrò a fare il tampone per vedere se sono positivo al covid come ho detto ieri ma poi di questo ne parlo meglio mi parlo meglio diciamo avevo la febbre quasi a 39 ieri ma ne parlo meglio poi nel video sui pensieri che è sempre separato da questo come da inizio anno quindi i pensieri li farò a parte oggi per la seconda volta consecutiva we have we have those beautiful blue skies and the blue and golden sunshine anche se adesso non si vede perché tra due ore apparirà là dietro il sole ma comunque si vede che il cielo è completamente blu tra un'ora apparirà là dietro per l'orario ovviamente comunque golden golden sunshine i think all along the way cioè fino ad altre due tre ore fino a sovraggiungere la serata quindi bene così nulla da dire in questi casi say this so from the mythical window with the colored curtain veramente sublime oggi nulla da dire so green roller shooter behind me on the top or in the shot and finally from my mythical keyboard the amadi gx 640 ipg ipg 625 have a great day im all the people follow the channel the reports mi raccomando il video sui pensieri separato da qui se vi interessa anche se non so se riesco a farlo ma penso di si si so again a great day im all these people and everyone too CA have a great day and then will be a great day for the first class let's do that and then will be a great day